bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyoder e oggi ragazzi stiamo vedendo il secondo video delle sfide della settimana numero 7 avete visto qualche ora fa il video che riguardava la stella di a trovare e cercando appunto la mappa che si trova in prison park e adesso invece guarderemo i cinque campi da calcio che sono stati inseriti nella mappa del gioco e che servono per completare la sfida fai gol in cinque campi da calcio diversi ovviamente ragazzi il primo lo sappiamo tutti è quello nuovo che hanno inserito devo farlo anche io quindi la facciamo insieme ci buttiamo direttamente al primo campo da calcio vediamo un pochettino di fare subito la prima partita ringrazio intanto è un ragazzo che mi ha consigliato gli altri tre che non mi ricordo il nome adesso di questo ragazzo ok ok allora andiamo allo stadio intanto andiamo allo stadio poi vediamo se riusciamo già a rientrare eventualmente allora andiamo subito allo stadio a fare la prima attenzione poi facciamo dei cut nel video così voi non vi annoiate vedete subito dove sono gli guardalo lì con l'olea in basso guarda l'olea in basso che vuole andare al campo da calcio a fare la partita non mi rubare il pallone dai ma tutti al campo da parte ignoranza parte ignoranza ho già capito com'è il discorso attenzione no questi vanno al campo da calcio prendere le armi è diverso la cosa dov'è la palla guarda the ball guarda the ball oh l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta la prima è fatta no perché se c'è allora iniziamo a scendere di prepotenza raga forza scendiamo di prepotenza forza 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 veloci proprio come le come le manguste come le manguste allora attenzione attenzione dai 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 quello lì è il secondo attenzione 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 ok ma tutti che devono fare le sfide proprio ma porca di quella porca questi sono quelli che vengono per prendere le armi forza no e la seconda l'abbiamo fatta ragazzi di prepotenza perché a lande letali ebbene sì c'è il terzo campo da calcio nel campo dove ci sono gli spaventapasseri vediamo un pochettino ci sono tre campi quindi vediamo guardalo guardalo guardo penso di vederlo guardatelo ragazzi guardatelo eccolo qua eccolo qua mi sembra che sia questo vediamo mi sembra no forse no dove che li hanno messi si è qua raga è qua è qua hai fatto il gol zio ok zio hai fatto il gol grande dammi a me la palla la palla la palla la palla eccolo raga eccolo oddio hanno messo gli spaventapasseri come calciatori raga attenzione attenzione e vai e andiamo a fare la terza ragazzi il quarto campo da calcio è qui al laboratorio della latrina ragazzi ci dobbiamo scendere mi hanno detto che l'hanno fatto con i cessi quindi si va ragazzi quindi si va dai che andiamo dai che andiamo ragazzi dai che andiamo facciamo il quarto gol poi ci suicidiamo nell'acqua perché il quinto è veramente molto molto lontano ragazzi andiamo a vedere andiamo a vedere ragazzi dai che andiamo dai che andiamo scendiamo al laboratorio della latrina raga bene così bene così ce la facciamo raga ce la facciamo ce la facciamo attenzione 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 allora mi hanno detto che l'hanno fatto con i cessi e mo bisogna trovarlo però dov'è vediamo qualcuno in chat che mi aiuta dov'è dov'è aiuto vediamo se è dentro per caso beh questo sono un sacco di cessi però non sembra essere qui dov'è nel parcheggio nel parcheggio nel parcheggio nel parcheggio nel parcheggio fermi fermi nel parcheggio e nel parcheggio attenzione nel parcheggio non ammichillare zio no aspetta ok benissimo ragazzi quinto e ultimo campo ragazzi rapide rischiose è un macello un carnaio un suicidio ma ce la possiamo fare ragazzi sotto al maxi schermo hanno creato due porte e dobbiamo assolutamente raggiungere la palla per poterci fare la missione completarla e avere le nostre stelline strameritate dai che ce la facciamo vi ricordo che a rapide rischiose c'è anche la missione da aprire i forzieri quindi è molto più difficile di quanto pensate però noi ci proviamo addirittura c'è un forzieri no 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 fai gol fai gol ti prego fai gol grande e completiamo la missione vediamo se riusciamo a prendere qualche forzieri al volo attenzione c'è gente ovunque c'è gente ovunque c'è gente ovunque sparano ovunque sparano ovunque allora attenzione quello era già andato qui un momento no non ci credo gg complimenti va bene ragazzi proprio abbiamo fatto una kill questa era tutti i campi da calcio ragazzi della nostra sfida andiamo a prenderci le stelline meritate vi ricordo ragazzi un bel like se avete visto questo video e vi è piaciuto un sacco di commenti qua sotto e mi raccomando seguitemi in live noi ci vediamo presto ciao 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 ciao